buongiorno a tutti ecco qua che siamo alla ricerca del tesoro in spiaggia ci passiamo il tempo esatto due belle ragazze che ho trovato in spiaggia col cerca metalli che cerca metalli è quello lì fa vedere che spettacolo è un octa score 2 e allora facciamo un po di ricerca col metal detector vediamo cosa nasconde la spiaggia sotto la sabbia cosa nasconderà un granchio una capparazza un tappino un piombino le altre volte abbiamo trovato la spiaggia dei tubi arriva 40 allora 40 è un buon è una buona identificazione vai maura un po di ricerca un po di ricerca un po di ricerca un po di ricerca c'è qualcosa c'è qualcosa cosa c'è un sasso è quella che suona che bel strumento il nocta score l'ho trovato al sito metalldetector24.com beh c'è una maglia valentino allora bisogna dire valentino che ha lasciato qui la sua maglia guarda che suona ancora nel buco ciccia ci sono ancora nel buco ma cosa ci sarà prova a vedere se suona ancora allora se suona ancora ancora lì ciccia ciccia Tutta ginnastica. Guarda se suona ancora o non suona più. Se non suona più è lì nella ramazzona. Mi fa suonare ancora lì? Mi suonava qua. Suona ancora? Svallo lo stesso qua. Cosa vuoi svalare se suona ancora nel buco? C'entra bene, c'entra, c'entra. Dai che almeno se c'è qualcosa di bello almeno vi guadagnate, vi guadagnate la giornata e la fatica. Poi è 40, guarda. Eh prova lì, via. Torna a suonare, a vedere se c'è. Oh, c'è ancora qualcosa però eh? Sì è, è 40. Va a vedere? Che provo a spingere, guarda, se spingi, se spingi questo tastino qui, questo, vedi? Io spingo. Cos'è da? Non suona più. Vediamo da un'ora che c'entra. Ma che è questo? Guarda che è qui eh. Cosa è? È qui. Vediamo lì. È proprio lì in centro dove c'è il tubo, lì, vedi? Non farti di là. Sta 30 centimetri, qui, tac. Ma che stai riprendendo? Sì, c'è il tesoro. Oh, si è spostato, è qua. Oh, mezza volta. Proprio lì in centro dove c'è il bacchetto. Sì, ma che spingi la calaccia, ma che bello? No, fatti un po' più a basso, così, così. So, sì. Oh, ci stiamo avvicinando eh. Non ramazzare, è ancora qui, guarda. Poi ci si do una stampata io. Ci do una stampata io dell'orso polare. Che prendi la macchina e la video. Oh, un bel anellino che sembra anche d'oro. Che spettacolo. Che spettacolo. Wow. Si vede? Sai che non si vede niente il display? Ti ho detto che io non si vedeva niente altre cose. Ma però guarda che bel anellino. Si vede così? Che spettacolo. Hai visto? Che un po' di fatica e di impegno dà la sua resa? Ma quello è oro, è oro giallo. È oro puro. È oro puro a 27 calacchi. Che spettacolo. Avanti pure. Avanti pure. Ma però voglio chiudere il buco. Chiudi il buco che dopo non ci insampliamo. Che dopo ci corre dietro il bagnino. Lì ci vanno i cani. E fra un po' arriva anche Valentino. Ale. Avanti. Posso cercare. Qui c'è tutta quanta la panoramica. Ostra. Là ci sono già tutti gli ombrelloni. Ma pensa a te. Suona? Addirittura. È ancora più buono dell'altro. Stavolta ci sarà un tappino. Cos'è che ci sia? Vuoi che sei così fortunata Anna? Vuoi farsi sempre. Ah guarda. Tieni premuto lì. Spingi bene. Corri dietro. Quello è un metaldetector avanzato. Guarda. Un multifrequenza simultanea. Stai pipando? Qua pipa. Dove? Fa vedere. Che è pipì? Vuol dire che gli scappa la pipì. Dai, allora entra in privacy. Dove nemmeno metterli. Cos'è? Cos'è la prima? Quando fa tic tic, centri con il centratore. Col pipì. Col pipì. Prova, muovi. Oppala. Centra pure, centra. Passa un po' di là. Che lo centri. Torna dentro. È lì. Vedi, lo centri. È lì. Ciccià. Ciccià. Cosa c'è qua? Qua ci sono otto dobloni d'oro. Otto dobloni d'oro. Cosa c'è lì? Prova a centrare ancora perché si risuona ancora. È lì, eh? Inutile che eseramarti se è ancora nel buco. È la teoria di Astaing. Quando scavi in un buco per cercare qualcosa e nel buco suona ancora, nella padella non c'è niente. È la teoria di Astaing. Dove? Quante linguette ci hanno buttato? Ecco, provale nel buco ancora. Prova nel buco. E suona ancora. Perciò nella padella non c'è. Nel buco. Insomma, quanto è fondo quello lì? Ma non lo so. Cosa, cosa ha ramassi? Prima proviamo il buco. Oh, fa poca maletta. Ancora? Stavolta c'è. Nel ramazzo. Non c'è mica una lattina. Di là c'erano dei tubi. Non sarà mica una lattina. Proprio lì in centro, guarda. Ciccia. Ciccia, ciccia. Ma che qua suona? Lì suona la ramazza. Prova a ripassare. Ecco. Ah, mamma mia, è presa. Prova. Premi. Premi. Ciò, non c'è più. Aspetta un attimo. No. Aspetta, prova. Che spettacolo. Ma o è che sia là, mi sembra che suona ancora nel buco. La stiamo utilizzando la teoria di Einstein. Che quando scavi in un buco, che prendi sul sabbione e nel buco suona ancora, è segno che non è nella padella. Buona qui, buona. Ecco, lì in centro. Dove fare il buco ancora di più. Ah, se è a fondo. Amo quello, un metal detector potente. È un Nocta score. Eh, se è un Nocta. Multifrequenza simultanea che ha il sito metaldetector24.com. Riprova un po' la cosa di Einstein. Se uno lo vuole, direttamente dalla Nocta italiana. Suona ancora. Allora è a fondo. Dai che ci do una stampata io, va là. Sì, perché... L'orso polare. Eh, damò. Tieni stretto l'orso polare. Sta' attenta lì a non dare lo zoom che dopo non si vede niente. Che dopo facciamo la puntura del tubo. Qua, qua. Ma prima non facevo sti... Prova. Ecco, aspetta un po'. Qua. Stai a vedere. Siamo parlando. Trac. Trac. Riprova a suonare. Vai via con la padella. Adesso è lì. Allora. Adesso è lì. Ciccia, ciccia. Sì. Suona ancora. Allora, ma che buco che ha fatto? Aspetta un po'. Eh, sono... Ancora? No, perché... Guarda. È il badile. Ah, badile. Prova un po' a pesciarsi. Dove? Lì, lì. Prova. Allora è qui. Prova qua nella padella. Metti via la tua ciapazzola. Prova un po' lì dove l'ho buttata con la teoria di Einstein. Ancora là dentro. Einstein non risponde. Ancora là dentro. È a fondo. Einstein non risponde. È una cosa profonda. Ecco. A finire che c'è una lattina. Qua. Guarda ora com'è a fondo. È potente quel nottoscore. Ma è arrivato a lui. Ma pensa a te. Fortuna che c'è l'orso polare che gli dà una zampata. Prova a vedere se suona ancora. Ma vuoi che ci sia ancora lì? Guarda. Guarda. Allora. Guarda. Ci è mosso. Entra. Spatta. Ma quanto è grande. Spatta. 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 Va a finire che l'altra volta c'erano i tubi. Questo buco qua. Adesso c'è una lattina. Sta a vedere. Questo buco qua. Pensiamo a te. Guarda. Guarda cameraman. Se vedo. Guarda. Guarda. Guarda che spettacolo. Seguimi. Seguimi. Una bellissima medaglia. Stai zitto. Che facciamo ridere tutti qua. Ai polli? Tutti. Ai polli. Quelli che vengono in sole. Quelli che dopo la pagano. Se è da museo te la pagano un po'. Ah ma io sono abituato. No noi no. Da museo. Che cos'è? Un'antica medaglia romana. No. No. Papa tredicesimo. E' una medaglia religiosa. E' appunto. Che illumina. C'è preso un Papa. Guarda. E' passato da lì. E' una medaglia religiosa della chiesa. Della chiesa. Degli anni 80, 90. La Pentecoste. E' lo spirito santo. Dai. Bella. Ma qui c'è proprio. Chi sarà il Papa. Il suo Vaticano. Che tiene su le mani. E arriva lo spirito santo. E lo arriva lo spirito santo. E lo spirito santo. E si vede. Hai visto com'è bella? Sì. E si vede lì che ci sono tutti i raggi del sole. Adesso. Che giorno è oggi? Pentecoste. Allora andiamo a Messa. Andiamo a Messa. Finiamo qui la ricerca. Poi andiamo a Messa. Ciao. Salute a tutti. Ciao. Facciamo un altro giretto un po'. Eh. Salutiamo tutti. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Andate bene. Ciao. Spengo eh. Ok.